Ciao Samuel, adesso andiamo ad assaggiare un Blanc Morgé della Salle, selezione Rayon. Il Rayon è una scelta di uve, si scelgono le posizioni migliori per fare il Blanc Morgé della Salle. Possiamo notare al colore, un colore giallo paglierino tendente al verdino. Al naso sentiamo dei fiori di montagna, fieno e al sapore, adesso lo assaggiamo, secco, acidulo, leggermente frizzante, molto delicato. Questo vino va benissimo per fare la carbonata, ma tu sai cos'è la carbonata? Allora adesso Wanda ci farà vedere come si fa. Grazie